non parcheggiamo lì sotto dove c'è nessuno no non parcheggiamo lì sotto parcheggiamo un pochino più su che c'è proprio il sentiero che da dove aveva la macchina lei va su taglia tutta la montagna arriva subito su alla cascina ma dice che la macchina la lascia lì e la posteggi no non si può non mi sembra che ci possano degli stati che potessero essere caricati dalle mucche prontò prontò mucca per me prova a fargli un bip no non so il pastore si cazzo non si deve fare i miei pastori si perché il problema vorrei che le spaventi tutte e poi mi fanno la carica no guarda che bello quel pittellino poi c'ho il tezzone ciao no niente si le creai un odore particolare sulle ruote non vuole guarda guarda paura arriva il cornotone lì cornotazzi non si avvicina se metto fuori la focaccia arriva vicino eh scommetti si lo savo di quando eravamo in corsica andavano le mucche sulla spiaggia che andavano sotto l'ombrellone andavano le baguette le baguette si no è vero perché la gente metteva i sacchetti sotto appesi sotto l'ombrellone e allora c'erano le mucche libere ogni tanto c'è la spiaggia sto andando? si e puntavano le ombrellone perché c'è un sottopaghetto ma sta certo che siamo in alto eh è quasi mille ore ah è in alto l'altino no? si qua tu sei molto tecnico è così che è nata eh? lei è molto tecnica tendenza bisogna vedere l'altro il pianto diceva che era molto bisogna vedere l'altro anche perché qua dove cazzo sta capisco è qui sopra lì c'è il sentiero lì andrà su il sentiero qua parcheggi la macchina qua sotto proviamo no proviamo tanto qui il posto per parcheggiarla c'è non dà fastidio guardate che passi una panda o qualche deve passare le panda ci sono non ho visto degli hammer guardami se devo andare avanti se no vado di là vai indietro e mettiti magari un po' più per giù d'oè qua? sì io però voglio la mia bandana perché ma questo sta ancora registrando? prego prego ecco i superstiti adesso vediamo il motore fuso trainata evitiamo di farlo vedere perché sennò dai che sei comportato bene poverino vieni qui vieni qui Andre più vicino sennò non ci stiamo tutti no è copiuntato così intanto che ci fanno una foto lui approfitta e adesso ve la faccio io e te allora siamo non no quale stai facendo per le foto questo? grande oh andate dai hai fatto tanto panica perché più non ci fuggerebbe? no per niente no veramente quella che fuma più di me ha fatto meno fatica di me che fuggi l'hai fatta? no e dai svegliati fatta grazie allora ve ne faccio una stavo dicendo allora qui con tutto il ragazzuoli se ci fermiamo giù fino a tardi e dovessimo per i porti di mangiare giù a Reduce di zone stasera non ci mangiare i panini ragazzi se invece lo vogliamo mangiare direttamente qua beh perché non si vede? è un po' se vede si accende da solo si accende da solo sopra l'altro si accende da solo si spegne quando hai visto la camera guarda io alzo la spenta ma lui non vedi che spenta? Il tangelo della Capi sì e io no. Beh ma lui non agisce nel senso, vuoi che non riesca a venire a scoprire, non è facile. Come potenza di macchina, ma guarda che ce la fa, questa curva qui che è brutta. È grossissima, è felosa anche. Otruttura Faccio elicorio E' pronto eh? E' pronto. 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 E' pronto.